Innanzitutto, un breve prologo autobiografico. Mia madre, donna di intelligenza eccezionale, era la ragazza più bella dell'Alabama. Lo dicevano tutti, ed era vero, e a 16 anni sposò un uomo d'affari di 28 che veniva da una buona famiglia di New Orleans. Il matrimonio durò un anno. Mia madre era troppo giovane per essere madre o moglie. Era anche troppo ambiziosa. Voleva andare all'università e farsi una posizione. Lasciò quindi il marito e mi affidò alle cure della sua numerosa famiglia, nell'Alabama. Negli anni successivi era raro che vedessi uno dei miei genitori. Mio padre era occupato a New Orleans e mia madre, dopo essersi laureata, stava facendo carriera a New York. Per me non era una situazione sgradevole. Stavo benissimo dove ero. Avevo una quantità di parenti affettuosi, zii e zie, cugini e cugine, e in particolare era una cugina, una donna anziana, bianca di capelli e leggermente claudicante, che si chiamava Sooke. Miss Sooke Folk. Avevo anche altri amici, ma la mia migliore amica era di certo lei. Fu Sooke che mi raccontò di Babbo Natale, della sua barba fluente, del suo vestito rosso, della sua stridula slitta piena di regali, e io le credevo, come credevo che tutto fosse la volontà di Dio, o del Signore, come lo chiamava sempre Sooke. Se inciampavo o cadevo da cavallo, o prendevo un grosso pesce a ruscello, beh, le cose belle come quelle brutte erano sempre alla volontà del Signore. Fu questo che disse Sooke anche quando le arrivò da New Orleans la terribile notizia. Mio padre voleva che andassi a passare il Natale con lui. Piansi. Non volevo andare. Non ero mai uscito da quella piccola, isolata cittadina dell'Alabama, circondata da foreste e fattorie e fiumi. Non mi ero mai addormentato senza che Sooke mi passasse le dita tra i capelli e mi desse il bacio della buonanotte. Per di più, avevo paura degli estranei. E mio padre era un estraneo. Lo avevo visto diverse volte, ma ne avevo un ricordo confuso. Non sapevo proprio quale fosse il suo aspetto. Ma, come disse Sooke, è la volontà del Signore. E chissà, Buddy, forse vedrai la neve. La neve! Prima che io sapessi leggere per mio conto, Sooke mi aveva letto molte storie, e in quasi tutte pareva ci fosse un mucchio di neve. Turbinosi, abbaglianti fiocchi da fiaba. Era una cosa che sognavo spesso, una cosa magica e misteriosa che avevo voglia di vedere e sentire e toccare. Naturalmente non mi era mai accaduto. E non era mai accaduto nemmeno a Sooke. Come sarebbe stato possibile, vivendo in un posto caldo come l'Alabama? Non so come mai pensasse che avrei potuto vedere la neve a New Orleans, che è ancora più calda, ma non ha importanza. Cercava solo di incoraggiarmi ad affrontare il viaggio. Avevo un vestito nuovo. Avevo, appuntato al risvolto, un cartoncino con il mio nome e indirizzo, nel caso mi fossi perso. Perché, vedete, dovevo viaggiare solo, in Pullman. E tutti pensavano che con quell'etichetta sarei stato al sicuro. Tutti, tranne me. Io ero spaventato a morte e arrabbiato. Fu ribondo con mio padre, quell'estraneo, che mi costringeva ad andarmene da casa e a star lontano da Sooke per Natale. Era un viaggio di 650 chilometri, più o meno. La prima fermata fu a Mobile. Lì, cambiai Pullman, e continuai a viaggiare all'infinito attraverso terre paludose e lungo il mare, finché non arrivammo in una rumorosa città tintinnante di tram estipata di pericolosi individui con facce da stranieri. Era New Orleans. E all'improvviso, mentre scendevo dal Pullman, un uomo mi prese tra le braccia e mi strense a sé fino a togliermi il fiato. Rideva e piangeva. Un uomo alto e di bell'aspetto che rideva e piangeva. Disse, «Non mi riconosci? Non riconosce il tuo papà?» Ero senza parole. Non aprì bocca fino a quando, mentre eravamo sul taxi, gli chiesi, «Dov'è?» «Casa nostra non è lontana. Non la casa. La neve. Quale neve? Pensavo che qui ci fosse un mucchio di neve». Mi guardò in modo strano, ma poi si mise a ridere. A New Orleans non c'è mai stata la neve, che io sappia. Ma ascolta, lo senti il tuono? Sta certamente per piovere. Non so che cosa mi spaventasse di più, se il tuono, gli sfrigolanti zigzag dei fulmini che a esso seguirono, o mio padre. Quella sera, quando doi a letto, stava ancora piovendo. Dissi le mie preghiere. E chiesi di poter presto tornare a casa da Sook. Non sapevo come avrei fatto ad addormentarmi, non essendoci Sook a darmi il bacio della buonanotte. In effetti non riuscivo a dormire, e così cominciai a chiedermi cosa mi avrebbe portato Babbo Natale. Volevo un coltello con il manico in madreperla, e una grande scatola di puzzle, un cappello da cowboy con relativo laso, e un fucile ad aria compressa per sparare i passeri. Diversi anni dopo, quando ebbi un fucile ad aria compressa, sparai a un tordo e a una quaglia. E non dimenticherò mai il dispiacere che provai, il rincrescimento. Non ho mai più ammazzato nessuno, e ogni pesce che prendevo lo ributtavo in acqua. E volevo una scatola di pastelli, e soprattutto una radio, ma sapevo che questo era impossibile. Non conoscevo neanche dieci persone che avessero una radio. Non dimenticate che c'era la crisi, e che nel profondo sud erano rare le case fornite di radio o di frigorifero. Mio padre le aveva entrambi. Pareva che avesse tutto. Un'auto con il sedile posteriore ribaltabile, per non parlare di una vecchia e graziosa casetta rosa nel quartiere francese, con balconi di ferro battuto e un giardino interno apatio, colorato di fiori e rinfrescato da una fontana a forma di sirena. Aveva anche una mezza dozzina, direi, anzi una dozzina intera di amiche. Come mia madre, mio padre non si era risposato, ma avevano entrambi ammiratori risoluti, e, volenti o nolenti, fidirono poi per ripercorrere il cammino che porta l'altare. Mio padre, di fatto, lo percorse sei volte. Vedete dunque che doveva avere fascino? E di fatto sembrava affascinare quasi tutti, o meglio, tutti tranne me. Questo perché mi metteva in imbarazzo, trascinandomi sempre qua e là per farmi conoscere i suoi amici, tutti quanti, dal suo banchiere al barbiere che lo radeva ogni giorno, e naturalmente tutte le sue amiche, ma c'era anche di peggio. Non faceva che abbracciarmi e baciarmi e fare i miei elogi. Mi vergognavo moltissimo. Io era un autentico ragazzo di campagna, credevo in Gesù e dicevo fedelmente le mie preghiere. Sapevo che Babbo Natale esisteva, e a casa, nell'Alabama, non portavo mai le scarpe, se non per andare in chiesa, inverno o estate. Era una vera tortura farsi trascinare qua e là per le strade di New Orleans, con quelle scarpe con i lacci stretti, calde come l'inferno, pesanti come il piombo. Non so dire cosa fosse peggio, se le scarpe o il cibo. A casa ero abituato al pollo fritto, ai cavoli ricci, ai fagioli americani, al pane di mais ed altre cose buone, ma i ristoranti di New Orleans. Non dimenticherò mai la mia prima ostrica. Fu come se mi scivolasse in gola un brutto sogno. Passarono decenni prima che ne ingoiassi un'altra. In quanto poi alla piccante cucina creola, mi bastava pensarci perché mi venisse il bruciore di stomaco. No, grazie. Io desideravo con tutto il cuore biscotti appena usciti dal forno e latte appena munto dalle vacche e melassa fatta in casa appena versata dal secchio. Il mio povero padre non aveva idea di quanto fossi infelice. Un po' perché non glielo avevo mai fatto capire, né tantomeno glielo avevo mai detto. E un po' perché, nonostante le proteste di mia madre, era riuscito ad avermi legalmente in custodia per quelle vacanze di Natale. Mi diceva, dimmi la verità, non ti piacerebbe venire a vivere qui con me a New Orleans? Non posso. Come non puoi? Mi manca Suc, mi manca Queenie, è una piccola rat terriere, una buffa bestiola, ma noi le vogliamo bene. Diceva allora, e a me non vuoi bene? Io dicevo, sì, ma in verità, a parte Suc e Queenie, e qualche cugino, e la fotografia della mia bella mamma accanto al letto, io non avevo idea di cosa significasse voler bene. Lo scoprì presto. Il giorno prima di Natale, mentre passeggiavamo in Canal Street, mi fermai di botto, ipnotizzato da un oggetto magico, esposto nella vetrina di un grande negozio di giocattoli. Era un aereo giocattolo abbastanza grande per poterci sedere e pedalare come se una bicicletta. era verde con un'elica rossa. Ero convinto che, pedalando con sufficiente energia, avrebbe decollato e preso il volo. Come sarebbe stato bello! Mi pareva di vedere i miei cugini bloccati a terra mentre io volavo tra le nuvole. E va a parlare di verde! Risi! E risi e risi! Era la prima volta che facevo qualcosa che facesse piacere a mio padre, anche se lui non sapeva che cosa mi fosse sembrato così buffo. Quella sera, pregai Babbo Natale, mi portasse l'aeroplano. Mio padre aveva già comprato l'albero e insieme passavamo molto tempo nei grandi magazzini a scegliere oggetti con cui decorarlo. Poi feci uno sbaglio. Misi sotto l'albero una fotografia di mia madre. Non appena la vide, mio padre si sbiancò e cominciò a tremare. Io non sapevo che fare, ma lui sì. Apri un armadietto e tirò fuori un bicchiere alto e una bottiglia. Riconobbi la bottiglia perché tutti i miei zii dell'Alabama ne avevano molte come quella. whisky di contrabbando del periodo proibizionista. Riempì il bicchiere e lo beve quasi d'un fiato. Dopodiché fu come se la fotografia fosse sparita. E così aspettavo la vigilia e l'arrivo sempre eccitante del grasso Babbo Natale. Naturalmente non avevo mai visto uno stridulo gigante con il ventre gonfio e un pesante sacco sulle spalle piombar giù del camino ed elargire allegramente la propria generosità sotto un albero di Natale. Mio cugino Billy Bob che era una carogna di nane rottolo con un cervello come un pugno di ferro diceva che erano tutte fesserie che quella creatura proprio non esisteva. Un corno diceva uno che crede in Babbo Natale può anche credere che un mulo è un cavallo. Questa discussione si svolse nella piccola piazza del tribunale. io dissi Babbo Natale esiste perché ciò che lui fa è la volontà di Dio e la volontà di Dio è sempre la verità e Billy Bob dopo aver sputato per terra si allontanò. beh sembra proprio che c'è capitato tra i piedi un altro predicatore. Giuravo sempre a me stesso che la vigilia di Natale non mi sarei addormentato. Volevo sentire la danza saltellante delle renne sul tetto e farmi trovare i piedi del camino per stringere la mano a Babbo Natale. E in questa particolare vigilia mi sembrava che non ci fosse niente di più facile che stare sveglio. Nella casa di mio padre c'erano tre piani e sette stanze molte delle quali enormi specie le tre che portavano al patio un salotto una sala da pranzo e una sala da musica per quelli che avevano voglia di ballare e di divertirsi e di giocare a carte. I due piani superiori erano guarniti di balconi e ai loro ghirigori di ferro verde scuro si intracciavano bougainville e ondeggianti viticci di formiconi scarlatti piante queste simili a lucertole con rosse lingue guizzanti. Era di quelle case che fanno la miglior figura se hanno pavimenti laccati e un po' di vimini qua e un po' di velluto là. Sarebbe stato possibile scambiarla per la casa di un ricco ma era più precisamente la casa di un uomo con una passione per l'eleganza. Per un povero ma felice ragazzo scalzo dell'Alabama era un mistero come potesse appagare questo suo desiderio. Non lo era però per mia madre che dopo essersi laureata stava sfruttando al massimo le sue grazie di bella sudista e nello stesso tempo si impegnava per trovare a New York un fidanzato veramente adatto in grado cioè di offrirle appartamenti in Sutton Place e pellicce di zibellino. No, le risorse di mio padre le erano ben note anche se a esse non fece mai alcun cenno se non molti anni dopo quando da un pezzo si era procurata fili di perle da far risplendere intorno alla sua gola avvolta nell'ermellino. Era venuta a trovarmi in un collegio snob del New England dove la mia retta era pagata dal suo ricco e generoso marito e qui qualcosa che le dissi la fece infuriare urlò davvero non sai come fa a vivere così bene? A noleggiare yacht e a fare crociere nelle isole greche? Sono le sue mogli pensa a tutta la lunga serie tutte vedove tutte ricche molto ricche e tutte molto più vecchie di lui troppo vecchie perché un giovane equilibrato potesse sposarle è per questo che sei il suo unico figlio ed è per questo che io non avrò mai un altro figlio ero troppo giovane per avere bambini ma lui era una bestia mi distrusse mi rovinò mentre lei parlava e io cercavo di non ascoltarla perché dicendomi che la mia nascita l'aveva distrutta era lei a distruggere me mi risuonavano in mente queste canzonette o altre dello stesso genere mi aiutavano a non sentirla e mi richiamavano alla memoria la strana e indimenticabile festa che mio padre aveva dato a New Orleans quella vigilia di Natale il patio era pieno di candele e anche le tre stanze che a esso conducevano quasi tutti gli invitati si erano raccolti nel salotto dove il fievole fuoco del caminetto faceva lucicare l'albero altri invece ballavano nella sala da musica e nel patio al suono di un grammofono a manovella io dopo essere stato presentato agli invitati ed essere stato oggetto di molti complimenti ero stato mandato di sopra ma dalla terrazza davanti alla porta vetri della mia camera potei osservare l'intera festa e guardare tutte le coppie che ballavano vidi così mio padre fare un giro di waltzer con una graziosa signora intorno allo stagno che circondava la fontana a forma di sirena lei era effettivamente graziosa e indossava un diafano vestito argentato che splendeva alla luce delle candele ma era vecchia aveva almeno dieci anni più di mio padre che ne aveva allora trentacinque mi resi improvvisamente conto che mio padre era di gran lunga il più giovane dei presenti nessuna delle signore per quanto affascinante aveva un'età inferiore a quella della snella danzatrice di waltzer con il fluttuante vestito argentato lo stesso valeva anche per gli uomini molti dei quali fumavano fragranti sigari avana per almeno metà erano talmente vecchi da poter essere i padri di mio padre poi vidi qualcosa che mi fece sussultare mio padre e la sua agile partner erano arrivati danzando in una nicchia oscurata da formiconi scarlatti e si stavano abbracciando baciando ero così sorpreso così arrabbiato che corsi in camera via mi buttai sul letto e nascosi la testa sotto le coperte cosa poteva volere il mio giovane attraente padre da una vecchia come quella e perché tutta quella gente non se ne tornava a casa e non dava modo a babbo natale di fare il suo ingresso rimasi sveglio per ore ad ascoltarli andare via e quando mio padre disse arrivederci per l'ultima volta lo udì salire le scale e aprire la mia porta per guardarmi ma io finsi di dormire accaddero diverse cose che mi tennero sveglio tutta la notte prima di tutto i passi il rumore di mio padre che correva su e giù per le scale respirando a fatica dovevo scoprire che cosa stava combinando mi nascosi quindi sul balcone tra le bougainville godevo da lì di una visione totale del salotto e dell'albero e del caminetto dove ancora ardeva un pallido fuoco e vedevo anche mio padre stava strisciando intorno all'albero per sistemare una piramide di pacchi avvolti in carta purpurea rossa e dorata e bianca e azzurra frusciavano ogni volta che lui li spostava mi girava la testa perché ciò che vedevo mi costringeva a riesaminare ogni cosa se quei regali erano destinati a me era ovvio che non era stato il signore a ordinarli né babbo natale a consegnarli no erano doni comprati e impacchettati da mio padre in altre parole il mio sporco cuginetto billy bob e gli altri sporchi ragazzini del suo stampo non avevano mentito quando mi prendevano in giro e mi dicevano che babbo natale non esiste ma il pensiero che più mi angosciava era questo anche su sapeva la verità e mi aveva mentito no Suk non mi avrebbe mai mentito lei credeva solo che beh anche se aveva passati 60 sotto certi aspetti era rimasta una bambina almeno quanto ero un bambino io continuai a guardare finché mio padre non ebbe sbrigato tutte le sue incombenze e spento le poche candele che erano ancora accese poi aspettai per essere sicuro che fosse a letto e profondamente addormentato scesi allora in punta di piedi in salotto che ancora puzzava di gardenie e di sigari a vana mi sedetti lì pensando adesso dovrò essere io a dire la verità a Suk una rabbia una strana malizia saliva una spirale dentro di me non erano rivolte contro mio padre anche se alla fine fu lui che ne rimase vittima quando venne l'alba esaminai i cartellini attaccati ai vari pacchi dicevano tutti per Buddy tutti tranne uno su cui c'era scritto per Evangeline Evangeline era un'anziana donna di colore che beveva coca cola dalla mattina alla sera e pesava 130 chili era la governante di mio padre e gli faceva anche da mamma decisi di aprire i pacchi era la mattina di Natale e io ero sveglio e allora perché no non mi prenderò la briga di descrivere ciò che contenevano nient'altro che camicie maglioni e altre squallide cose della stessa specie il solo regalo che apprezzai fu una pistola capsule di gran classe mi venne in mente che sarebbe stato divertente svegliare mio padre sparando fu ciò che feci bang bang si precipitò fuori della sua camera con gli occhi stralunati bang 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 buddy cosa diavolo stai facendo bang 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 smettila risi guarda papà guarda che cose meravigliose mi ha portato babbo Natale ormai calmatosi entrò in salotto e mi abbracciò ti piace quello che ti ha portato babbo Natale gli sorrisi e lui sorrise a me ci fu un lungo momento di tenerezza che andò distrutto quando io dissi sì ma tu cosa mi regali papà il suo sorriso svanì i suoi occhi si restrinsero insospettiti pensava era chiaro che io cercassi di fare il furbo ma poi arrossì come se si vergognasse di pensare ciò che stava pensando mi accarezzò la testa tossì e disse beh avevo pensato ad aspettare per lasciarti scegliere una cosa che volevi non c'è niente di particolare che tu desideri gli ricordai l'aeroplano che avevamo visto nel negozio di giocattoli di Canal Street il suo viso s'afflosciò oh sì si ricordava benissimo dell'aeroplano e di quanto era caro il giorno dopo tuttavia mi trovai seduto in quell'aeroplano a sognare che stavo salendo in cielo mentre mio padre riempiva un assegno per un commesso tutto contento si era discussa l'ipotesi di spedire l'apparecchio in Alabama ma io fui irremovibile insistetti per portarmelo dietro sul pullman che avrei preso quel pomeriggio le due il commesso risolse la questione telefonando la società dei pullman e la risposta fu che non avrebbero avuto difficoltà a sistemare la faccenda ma non mi ero ancora liberato di New Orleans il problema era una grande fiaschetta ad argento di whisky di contrabbando forse fu a causa della mia partenza ma sta di fatto che mio padre aveva bevuto tutto il giorno e mentre andavamo alla stazione dei pullman mi spaventò afferrandomi un polso e sussurrando con voce aspra io non ti lascio partire non posso permetterti di tornare da quella famiglia di matti in quella vecchia casa di matti guarda come ti hanno ridotto un ragazzo di sei anni quasi sette che parla di babbo natale è tutta colpa loro di tutte quelle vecchie zitelle inacidite con le loro bibbie e i loro ferri da calza e di quegli zii sempre ubriachi ascoltami baddi dio non esiste babbo natale non esiste mi stava stringendo il polso con tanta forza da farmi male certe volte dio mio penso che tua madre e io tutti e due dovremmo ammazzarci per aver permesso che succedesse questo lui non si ammazzò mai ma mia madre si imboccò trent'anni fa la strada del seconal dammi un bacio ti prego ti prego dammi un bacio di al tuo papà che gli vuoi bene ma io non potevo parlare mi terrorizzava l'idea di perdere il pullman ed ero preoccupato per il mio aeroplano legato con una cinghia al tetto del taxi dimmi ti voglio bene dimmelo ti prego baddi dimmelo per mia fortuna il taxista era un uomo di buon cuore senza il suo aiuto infatti e senza l'aiuto di alcuni efficienti facchini e di un affabile poliziotto non so cosa sarebbe successo quando arrivamo alla stazione mio padre barcollava al punto da non poter quasi camminare ma il poliziotto gli parlò lo calmò lo aiutò a stare dritto e il taxista promise di riportarlo a casa sano e salvo mio padre però non voleva andare via prima di aver visto i facchini caricarmi sul pullman una volta salito mi rannicchiai su un sedile e chiusi gli occhi sentivo uno stranissimo male un male opprimente che mi doleva dappertutto pensai che se mi fossi tolto le mie pesanti scarpe da città quei mostruosi strumenti di tortura la sofferenza sarebbe sparita me le tolsi ma quel male misterioso non mi lasciò in un certo senso non mi ha mai lasciato e non mi lascerà mai dodici ore dopo ero a casa mia la stanza era al buio Souk sedeva accanto a me dondolando su una sedia d'ondolo con un rumore rasserenante quanto le onde dell'oceano avevo cercato di raccontarle tutto ciò che era accaduto e avevo smesso solo quando ero diventato rauco come un cane che ha ululato troppo mi infilò le dita tra i capelli e disse ma certo che Babbo Natale esiste solo che non c'è nessuno che possa fare da solo tutto quello che deve fare lui e allora il Signore ha distribuito i Suoi compiti tra tutti noi per questo noi siamo tutti Babbo Natale io tu persino tuo cugino Billy Bob e adesso dormi conta le stelle pensa a cose più serene alla neve per esempio mi dispiace che tu non abbia potuto vederla ma ora la neve sta cadendo attraverso le stelle le stelle sfavillarono la neve turbinò nella mia testa l'ultima cosa che ricordai fu la voce pacata del Signore che mi parlava di qualcosa che dovevo fare l'indomani la feci andai con Suk all'ufficio postale e comprai una cartolina da un cent è una cartolina che c'è ancora l'hanno trovata l'anno scorso nella cassetta di sicurezza di mio padre dopo la sua morte ed ecco cosa gli avevo scritto ciao papà spero che tu stia bene io sto bene e sto imparando a pedalare il mio aeroplano così svelto che presto sarò in cielo e così tieni gli occhi aperti e sì ti voglio bene buddy